Stavolta non è solo un annuncio, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris passa via di fatto per bloccare gli effetti del decreto sicurezza, una normativa che ha scatenato la rivolta dei primi cittadini da Palermo a Napoli ed è una sfida a Salvini, anche se il ministro dell'interno ha minimizzato parlando di una protesta di 10 sindaci su 8.000, un dato che per lui è del tutto insignificante. Ma De Magistris non ci sta ed ha firmato una direttiva che dà disposizione agli uffici dell'anagrefe comunale di procedere con l'inserimento anagrafico dei cittadini migranti presenti sul territorio cittadino e in possesso del permesso di soggiorno temporaneo per richiedenti asilo. Non sono io a disubbidire, dice anzi, così rispetto la Costituzione. Il Parlamento ha approvato una legge, la legge entrata in vigore, come ogni legge anche questa legge va interpretata. Il faro principale nell'interpretazione è la gerarchia delle fonti, quindi il nostro primo punto di riferimento è la Costituzione, chiaramente la legislazione comunitaria, i trattati internazionali, le leggi ordinarie hanno scaricato su noi sindaci l'interpretazione immediata della legge perché non è che i diritti possono aspettare, stiamo adottando atti, provvedimenti, stiamo facendo interpretazioni. Questa è una indicazione che io do al dirigente dell'ufficio anagrafe del Comune di Napoli, dell'inserimento nell'elenco dell'anagrafe del Comune di Napoli di persone che possono ottenere così una residenza temporanea. Parliamo dei richiedenti asilo, quelli che rimangono per colpa di questa legge privi della protezione umanitaria internazionale e diamo loro anche un luogo, un domicilio, che è un ufficio del Comune di Napoli, quello preposto al contrasto alla povertà e al sostegno delle fragilità. Quindi non è un atto di disapplicazione della legge o di disobbedienza, è un atto di ubbidienza la Costituzione perché esistono persone che non è che per voluntas legis di qualcun altro possono diventare persone invisibili che da un giorno all'altro non esistono. Questo può valere per qualche Ministro della Repubblica Italiana ma non per noi che stiamo sul territorio, le persone le vediamo, le guardiamo, le sentiamo e ne avvertiamo bisogni e diritti secondo il faro dell'articolo 3, primo comma della Costituzione, le persone non possono essere discriminate in base al colore della pelle. Quella di De Magistris è dunque soprattutto una sfida politica, dopo aver aperto il porto di Napoli alla Sea-Watch il Sindaco continua a contrastare Salvini sul tema dei migranti, tema che ha spinto anche la Chiesa a cambiare rotta rispetto ad una linea di neutralità con il governo mantenuta finora. Anche il fronte del Lanci non appare più compatto. De Magistris è stato escluso dalla delegazione che ha incontrato il Premier Conte, vertice giudicato positivo dal Presidente De Caro, mentre il Sindaco di Napoli ha confermato le sue perplessità visto che Conte non ha dissipato tutti i dubbi che solleva il decreto sicurezza. L'incontro di ieri come sapete io non c'ero, molti sindaci mancavano, c'era una delegazione scelta dal Presidente del Lanci che ha avuto un incontro che so essere proficuo, per come l'ha detto il Presidente del Lanci e il Presidente Conte, stamattina ho sentito il Presidente del Lanci, l'incontro verteva su alcuni punti su cui evidentemente ci stava la possibilità di raggiungere una proficuità di contatto col governo al fine di una circolare interpretativa, ma come in questo ha detto anche il Ministro Salvini e come questo vale anche per noi, la legge per certi aspetti è chiara, quindi alcuni profili sono incostituzionali e non spetta chiaramente né a me né a un Ministro dichiararli tali, ma bisogna sollevarli davanti alla Corte Costituzionale, ma come ho detto prima poi ci stanno dei profili che si possono interpretare. Vediamo per alcuni la circolare interpretativa del Governo e quale sanno le disposizioni, per altre non è che ce lo deve dire Salvini o De Caro o Conte, come si interpreta la legge, questo spetta a ognuno di noi, spetta al Sindaco, di ogni Comune d'Italia, spetta alle persone che si trovano di fronte a leggi che devono interpretare. Noi non scappiamo di fronte a questo e la interpretiamo, quindi il giudizio nei confronti della legge anche dopo l'incontro Anci-Governo è un giudizio assolutamente negativo da parte mia, da parte nostra, per come l'abbiamo letta con attenzione e tra qualche settimana e tra qualche mese si avvertirà nel Paese quanto questa legge accentui l'insicurezza del nostro Paese, aumenti la clandestinità, aumenti l'illegalità, aumenti la concentrazione solo in determinati luoghi, aumenta quei fenomeni che ad alcuni italiani, a una parte del nostro Paese, provocano pericolo, percezione di pericolo o chiamiamolo per altri disturbi, quindi esattamente il contrario di quello su cui noi stiamo lavorando, cioè quello di fare un'integrazione diffusa sul territorio europeo e nazionale in proporzione con il numero di abitanti per ogni territorio, con persone che hanno diritti e doveri e che quindi non si avverte quel senso di disagio da parte di nessuno, non si avverte la percezione assolutamente strumentalizzata di invasioni perché invasioni non ci sono e smascheriamo anche dalla città di Napoli e anche la città di Puccinella, quindi Puccinella è una maschera che toglieva anche la maschera delle bugie dei potenti e questi andranno a rimpatriare tutte le persone, abbiamo fatto un calcolo, ci vorranno circa 80 anni, quindi da questo punto di vista noi ci troviamo di fronte a una legge dell'insicurezza nazionale che siamo costretti, perché siamo in uno Stato di diritto ovviamente ad applicare, però siamo felici di applicarla secondo la Costituzione, che non è voluta da questo Governo, ma dai padri costituenti nell'ottica della resistenza al nazifascismo. Ma da Napoli arrivano anche critiche a De Magistris. La vicepresidente della Camera e consigliera comunale a Napoli di Forza Italia, Mara Carfagna, sottolinea che salvare bambini, donne e uomini che vengono dal mare per sfuggire alla guerra e alla fame è una cosa, rifiutarsi di applicare una legge dello Stato, accogliere e regolarizzare tutti senza alcun distinguo è un'altra, De Magistris ha sbagliato. Il sindaco però va avanti per la sua strada, consapevole di dover affrontare lo scontro con gli esponenti del Governo, come è accaduto sul Rai 3 a carta bianca, nel botte e risposta con Lucia Borgonzoni, senatrice della Liga. Esistono delle persone che se si interpretasse in altro modo invece la legge è come se non esistesse e questa è una cosa inammissibile, quindi la legge parla di divieto di iscrizione nel registro dell'anagrafe, nell'anagrafe dei comuni, questo è un fatto grave, io credo che sarà sollevata questione di legittimità costituzionale, ritengo accolta, ma in attesa di questo noi abbiamo previsto per queste persone l'inserimento nell'elenco dell'anagrafe delle residenze temporanee per i richiedenti asilo in attesa di permesso di soggiorno, che se non ci fosse questo provvedimento non lo potrebbero mai avere, e tutti quelli che rimangono privi di protezione umanitaria internazionale. È una decisione molto importante perché non sospende la legge ma la applica in conformità della Costituzione, in particolare articolo 3 primo comma della Costituzione dell'uguaglianza dei cittadini ed impedisce un effetto criminogeno della legge, cioè quello di portare tutti verso la clandestinità col rischio di un aumento importante della criminalità e di tutte le altre cose di cui abbiamo parlato. Quindi la nostra è un'interpretazione sorretta da giurisprudenza nazionale e comunitaria, in ossegue ai trattati internazionali, della legislazione comunitaria, della Costituzione e dell'interpretazione di tutte le leggi ordinarie, compreso l'ultima, presenti nel nostro Paese. Il Premier Conte dice che però è propaganda, lei come risponde? Potrei dire che è propaganda quella che fa il Governo sulla pelle delle persone e soprattutto che se non ci fosse stata la mobilitazione che c'è stata in Italia dei sindaci, delle associazioni, dei parroci con l'autorevolissima presa di posizione del Papa avremmo ancora delle persone in mezzo al mare. Noi non facciamo propaganda, noi siamo i sindaci che stiamo in mezzo alla strada e cerchiamo e proviamo a dare diritti a rispondere ai bisogni, soprattutto delle tante persone fragili, tantissime italiane e tantissime anche bambini, donne e persone fragili che altri vogliono lasciare in mezzo al mare col rischio di morire e noi rimaniamo umani, alla propaganda del Governo rispondiamo con l'umanità.